Buonasera, adesso farò una crema di caffè fresca e la potete usare così congelato facendo anche un semifreddo pochi ingredienti, allora caffè solubile rimetti fa vedere caffè solubile alza però ti fa vedere caffè solubile esatto mezzo bicchiere poi mezzo bicchiere di acqua congelata congelata che non si scongelava potete capire il cassino che ha combinato è stato il congelatore è mezzo bicchiere di zucchero poi si aggiungerà l'altro se non vi piace il gusto troppo forte del caffè li ho filizzato allora adesso si frulla ecco un attimo 5 minuti vediamo che esce fuori senza panna oh pare che stavolta c'ha zecca la sora Camilla no l'altra volta si è fatta finita no no vedi già sta montando no se ti alzi la vedi dentro vedete come monta vedete poi aggiungerò un altro mezzo bicchiere di zucchero perché vedi quanto è scura è forte se non piace potete mettere meno caffè insomma capito vedete come sta montando la ciotola era più chiara è più chiara se vede che c'è poi ci avevo messo pure un po' più acqua diciamo ma era mezzo bicchiere beh a sto punto aggiungo l'altro zucchero si perché si può mangiare troppo male no è troppo forte cattè però la prossima provo a mettere meno caffè lo vedi che è più chiara perché ci mette lo zucchero si provo a mettere meno caffè la prossima questa c'è così che è finita certo ecco vediamo un picchiaino si ora dovemo passare mi deve avvelenare me prima mi avvelenare me poi poi mi dice se è buona assaggia 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 io faccio da cavia assaggia buona? per me è amara comunque buona ancora per me però non c'è metto altro sì ma il caffè li ho pinciato che è così è forte comunque è buona è finita è finita e ci potete fare la truffa buberto sì questo qua io l'altra volta ho fatto vabbè guarda la togliamo avete visto quanto c'è voluto? no no l'altra volta ho fatto dei come si chiamano? i savoiardi ah allora sì lo intinti nel caffè come fai il tiramisù no? invece puoi far il tiramisù benissimo puoi aggiungere anche la panna o il mascarpone fai tipo insomma tiramisù comunque guardate vedete quant'è densa molto buona questa adesso io la metto al congelatore sì che poi e viene tipo gelato hai capito? no non si inturisce no 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 non si congela no perché se fa la fine dell'acqua sono state tre ore a aspettare che si scongela no no non si congela rimane come un gelato hai capito? stiamo cercate vabbè se la volete provare ok io assaggio io assaggiata era buona no è buona per me forse è un po' troppo forte il caffè ma comunque è buonissima no è buona però a te si fa troppo forte a chi piace ne promette anche di meno se non gli piace quel gusto no no buona è buona e allora speriamo che vi è piaciuta provate per credere e commentate mi raccomando buona serata tutte buone recensioni mi raccomando buona serata buona serata a tutti buona serata a tutti buona serata a tutti